Anche in Croazia il terremoto, appunto come in Italia, con anche qui delle vittime. Questa è la conseguenza delle trevellazioni. Trevellazioni in mare che sia il governo Conte Salvini Di Maio, Conte Di Maio, Renzi, Zingaretti e Speranza hanno confermato. Ma andiamoli a casa, tutti sia Conte Di Maio Salvini, Conte Di Maio, Renzi, Fratoiani e Speranza hanno realizzato un programma della P2 di Ciogelli, hanno confermato le trevellazioni e mandiamoli a casa. Mandiamoli a casa, i terremoti sono anche la conseguenza delle trevellazioni, mandiamoli a casa, votiamo no al prossimo referendum che sarà indetto dal Tare del Lazio dopo il ricorso per impedire che ci siano i parlamentari e per far sì che non ci siano solo i parlamentari legati alle lobby della masoneria e alle lobby anche delle trevellazioni. Voluta Di Maio, Zingaretti, Salvini, Meloni, Fratoiani e Speranza. Mandiamoli a casa, votiamo no. Vissuti vero. Vissuti vero.